E adesso vederlo mi fa un effetto strano perché nel sogno noi ci siamo quasi baciati, noi due, in tetto sulle labbra. Io volevo soltanto sapere se hai da cambiare. Direi due da dieci e una da cinque se è possibile. Il fatto è che io non lo vedo in quel modo, siamo solo amici, ma allora perché ho fatto quel sogno? Perché? Io vorrei solo riavere i miei soldi. Il punto è che io non voglio che cambi niente, ecco perché questo sogno mi fa impazzire. Sono due giorni che non dormo perché ogni volta faccio questo sogno. Le mie monete! Jasper ha rubato un paio di pantaloncini di rei ed è diventato invisibile. Perché è diventato... Torno ora dalla cantina, la normalissima cantina di questo palazzo. Ok, svengo subito, cioè scendo! Scusa, ho sbaciato, voglio dire sbagliato, esci! Per caso era quello il ragazzo che hai quasi baciato il sogno? Ma sei proprio sicura che per te sia soltanto un amico? Beh, perché in effetti è davvero un bel pasticcino! Basta parlare! Trovami! Sono proprio qui! Andiamo, Jasper, ridabili i miei pantaloni! Allora, come fa ad essere invisibile? Suos ha inventato l'anello del camaleonte che ti mimitizza con l'ambiente. Ma solo se rimani perfettamente fermo. Quindi Jasper si nasconde sul pavimento! Jasper, restituisci a re i suoi shorts di jeans. Si chiamano jorts, amico. Non è carino quando li chiami shorts di jeans? O quando li indosci. L'ho capito! Sono proprio qui! Li hai indossati! Un certo che sì, sono gli jorts più seducenti che abbia mai visto. Ecco, molto bene, Jasper. Ora sono diventati da sfigati. Me lo fai provare? Certo. Perché ti sei? C'è un pulsante sotto l'anello ed è più facile. Ehi, guardate lì! Henry sta chiedendo a Charlotte di sposarla. Non è vero! Da sposati li chiamerò i Henry. Henry non avrà mai un seguito. Ovviamente saranno gli Enlott. Hashtag Enlott. Non stiamo per sposarci! No, dovete prima darvi un bacio. Non stiamo per baciarci! Se scappi ti sposo. Lo odio, questo ascensore! Lo odio! Perché ce l'ho sempre davanti!